Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Unplug Chitarre News, il notiziario sugli avvenimenti relativi al mondo della chitarra ed intorni. Il 21 marzo è andata in scena la prima di Cover Me, lo spettacolo prodotto da Unplug Chitarre sulla storia del rock con la Steam Train Band. Un vero successo, un teatro pieno, tanta musica e chitarre in bella evidenza. Ma sentiamo ora le impressioni dalla voce di uno dei protagonisti della riuscitissima serata, Enzo Keef Casali. Beh, se devo dire, quello che ho parlato quella sera è stata un'emozione incredibile, perché pur suonando da tanti anni, trovarmi lì su un palco con il sipario chiuso, il sipario si è aperto e mi sono visto di fronte a una platea, non so quante persone veramente ci fossero. In quel momento ho detto, ma sarò in grado di iniziare e poi... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1900, arrivare fino agli anni 60, attraverso poi dei pezzi che noi abbiamo suonato tantissime volte, ma esposti in una maniera così organica, con un video che sottolineavo, con dei video di immagini, è stata una cosa, veramente l'ho già detto prima, ma indimenticabile. Passiamo ora agli avvenimenti che si svolgeranno nella nostra saletta. Vi ricordiamo subito i prossimi appuntamenti di cui abbiamo parlato più diffusamente nel precedente notiziario e che potete trovare sul nostro blog. Domani, 28 marzo, alle ore 16.30, Gabriele Posenato presenta il nuovo CD Wine & Feeling dedicato al connubio Musica e Vino, ingresso libero. Sabato 4 aprile, alle ore 16, l'incontro in video via Skype con Dermot McIlroy, direttamente dal suo laboratorio in Irlanda. Il creatore delle chitarre McIlroy non solo ci parlerà della sua storia nel mondo della luteria, ma risponderà anche alle vostre domande che gli vorrete fare, soddisfacendo così le vostre curiosità. L'ingresso costa 5 euro, prenotatemi. Sabato 18 aprile, alle ore 16.30, saranno ospiti della nostra saletta i Temo, ingresso libero. Martedì 5 maggio, alle ore 18.30, sarà ospite di Unplugged, Pete Applinger, uno dei più importanti chitarristi fingerstyle a livello mondiale. Il costo dell'evento è di 20 euro e, data la disponibilità esigua dei posti, è obbligatoria la prenotazione. Ecco ora i prossimi appuntamenti degli amici di Unplugged. Il 27, 28, 29 marzo, a Malpensa Cavalli, presso Malpensa Fiera di Busto Arsizio, si svolge A Taste of America, un evento con musica, gastronomia e danze legate alla tradizione americana. Molti gli eventi musicali. Per maggiori informazioni, consultate il sito e tasteofamerica.it. Stasera, 27 marzo, presso il Black Crow di Via 25 Aprile 29 a Cermenate, si esibisce la Taz Poker Band con Vittorio Giuffrida alla chitarra. Ascoltatelo in un altro piccolo estratto dello spettacolo Cover Me, registrato sabato 21 marzo. Domani, 28 marzo, presso il Magic Sound di Via Risorgimento 2 a Cermenate, si esibisce la Rebbio. Alle 22, l'amico di Unplugged, Rive, suona come supporto agli Eva Monamor. Ed ora il consueto spazio dedicato alla liuteria. A grande richiesta, riprendono al mercoledì gli incontri per imparare a settare la chitarra. In un'ora e mezza il nostro aiutaio ti insegnerà tutto ciò che devi sapere per ottenere il massimo dal tuo strumento. Il costo per ogni partecipante è di 50 euro e occorre prenotare perché all'incontro possono partecipare solo tre persone per volta. Si comincia mercoledì 15 aprile alle ore 19 e 30. Prima di chiudere vi ricordiamo che potete trovare le informazioni dettagliate delle notizie qui trattate sul blog del nostro sito unpluggedchitarre.it o chiamandolo 02 97 37 45 72. Se invece volete contattarci via mail fatelo a info-unpluggedchitarre.it. Lo staff di Unplugged vi saluta. Ciao a tutti e a presto.